Grazie, grazie mille, grazie anche veramente di cuore del ricordo di mio padre, mi fa molto piacere sentire ricordare che ancora ci sono persone che lo ricordano. Io sono qui come sapete per parlarvi dello scudo di Achille che è un argomento noto sul quale c'è un sacco di roba da dire e questo mi pone un po' di problemi perché il tempo è tanto ma è limitato, è limitato per quello che si dovrebbe, si potrebbe dire sullo scudo di Achille, cercherò di sintetizzarlo comunque. Lo scudo di Achille, la situazione qual è questa? Achille deve tornare a combattere, torna a combattere ma non ha armi, perché non ha armi? Lo dico anche, so che ci sono gli studenti collegati che sanno tante cose ma forse non tutte. Allora Achille non ha le armi perché si era ritirato dalla battaglia, perché gli era stata Agamemnon, gli aveva sottratto Briseide che era la sua schiava di guerra, che era il simbolo dell'onore, la schiava di guerra, non è l'importante, è una questione di donne, mi ha tolto la mia schiava di guerra no, la schiava di guerra era il segno del valore in battaglia, tanto più un eroe aveva combattuto bene tanto più valeva la donna che gli veniva, la prigioniera di guerra che gli veniva stata assegnata e quindi la sottrazione di Briseide era un oltraggio che assolutamente Ulisse non poteva sopportare Achille scusate, non poteva sopportare. E cosa doveva fare? Doveva fare vendetta, doveva fare vendetta perché siamo nel mondo della vendetta, ecco siamo nel mondo della vendetta, siamo sullo scudo di Achille arriviamo poi a descrivere la scena in un mondo che è a cavallo tra il mondo della vendetta e la civiltà del diritto, questo è l'aspetto molto interessante sul quale cercherò di insistere. Se non che cosa succede? Lui si è ritirato dalla battaglia, durante la battaglia i greci morivano naturalmente come moschi in essenza sua e allora il suo amatissimo Patroclo decide di andare a combattere nonostante il divieto di Achille e che cosa fa? Indossa le armi di Achille e viene ucciso, viene ucciso da Ettore. A questo punto è dovere di Achille assolutamente uccidere Ettore. Oltre al di là del dolore c'è il fatto, la necessità proprio veramente, se non si vendica proprio il suo valore di eroe diminuisce, no? Mondo competitivo nel quale vendicarsi significherà essere il più forte e quindi viene socialmente più considerato e quindi deve tornare a combattere. Naturalmente interviene la madre Tetti, come sapete va da Efesto e Efesto scolpisce sullo scudo di Achille delle scene, delle scene delle quali vi parlerò poi. Le scene che sono scolpite sullo scritto di Achille sono state definite anche nel titolo di questo incontro un microcosmo del mondo eroico, del mondo omerico. Un microcosmo del mondo omerico ed è una definizione più che giusta, questo è un microcosmo del mondo omerico. Ma il problema allora è, e questo è un problema non da poco, cos'è il mondo omerico? Cosa intendiamo per mondo omerico? E qui devo dire che letteralmente sono stati versati fiumi di inchiostro su questo argomento. Tra l'altro, negli ultimi meno di 50 anni, nel 1952, come molti di voi sapranno, c'è stata una scoperta che ha rivoluzionato le nostre conoscenze sul mondo greco. Un giovane architetto che si chiamava Michael Ventris, sul quale io penso che bisognerebbe fare un film perché è una storia meravigliosa. Beh, questo ragazzo, da piccolo aveva sentito parlare di una scrittura strana chiamata Lineare B, silabica. Non si sapeva che lingua coprisse. E lui, questo ragazzino che diventa un pilota della RAF, quando ha vent'anni e poco di più, decifra questa scrittura. Vi potete immaginare i grecisti e linguisti di tutto il mondo. Al primo momento tutti ridevano ed era vero. Allora scopre che sotto quella scrittura chiamata Lineare B, perché ce n'è una chiamata lineare a un po' più antica, ancora indecifrata, c'è una lingua greca. Una lingua greca. Allora questo vuol dire, un momento, da questa scrittura è stata trovata su delle tavolette di legno, ce ne sono alcune anche al Museo di Torino, incise, sono dei segni incisi su tavolette di legno. Queste tavolette risalgono a un periodo che va dal 1400 al 1200 a.C. Siccome la maggior parte di quelle tavolette viene trovata a Micene, quel mondo viene chiamato mondo greco miceneo, dal nome del centro dove si erano trovate di più. Beh, questo cosa voleva dire? Vuol dire che il mondo greco era cominciato un bel po' prima di quello che non si pensasse. Quindi, allora, a questo punto anche ci sono fatto una digressione, ma era necessario per chiarire la situazione. Il mondo omerico. Il mondo omerico. Primo il mondo omerico era il mondo praticamente in cui c'erano già le poleis, perché tutte le diverse città greche si uniscono per andare a combattere contro Troia. Quindi siamo nono, ottavo secolo a.C., questo è il momento in cui nascono le poleis. Invece il mondo greco comincia nel 1400. Nel 1200 la civiltà micenea viene completamente distrutta. C'erano dei grandi palazzi, come quelli minoici. Vengono bruciati, per questo si conservano le tavolette carbonizzate. E beh, a questo punto noi dobbiamo fare conti quando parliamo del mondo omerico. Il mondo omerico comprende il mondo greco non è più solo il mondo da Omero in poi, è il mondo a partire dalle tavolette micenea. E quindi lo scudo dove lo collochiamo? Siccome è un microcosmo del mondo, del mondo greco, di quale mondo parla? Che fa riferimento alla civiltà micenea, due sole parole. La civiltà micenea è molto diversa da quella delle poleis. È grosso modo una società feudale, grosso modo. C'è un sovrano chiamato Vanax. Voi ricorderete che Agamemnon è Anax, vedete la corrispondenza. E non ci sono dei cittadini, i cittadini nascono nelle poleis, no? Ci sono dei sudditi. Forse che l'oscuro di Aguille come microcosmo riflette anche quel mondo. Oppure il mondo omerico è il mondo delle poleis, che grosso modo, secondo un'opinione abbastanza diffusa, edificia una discussione attorno a questo che non finisce mai, ma si dice più o meno il mondo omerico, il mondo delle poleis, descritto delle poleis, parlando di quello descritto sullo scudo, è quello attorno al nono, ottavo secolo avanti Cristo. Quando, nel momento in cui i poemi assumono una loro forma definitiva, più o meno, e quindi diciamo che il mondo omerico potrebbe essere il mondo di Itaca. In Itaca, Moses Finley ha definito la prima poleis, no? C'è un livello di potere il più alto, è la magistratura. Può essere repubblicana, può essere monarchica, non importa. Poi c'è il Consiglio degli Anziani e poi c'è l'Assemblea Popolare. A Itaca c'è tutto questo ancora in fiere, perché i poteri di queste istanze del potere non sono ancora specificati. Tuttavia lo sono. Questa è l'altra ipotesi. Quindi il mondo miceneo, mondo omerico, diciamo in questo senso, oppure mondo classico anche, mondo classico proprio. Il mondo delle poleis formate e il mondo per intenderci di Sparta e di Atene. E noi adesso, dopo questa lunga premessa che però era necessaria, cerchiamo di capire, leggendo le scene scolpite sullo scudo di Achille, a quale mondo omerico si riferisce, quando si dice il microcosmo del mondo omerico. Di quale mondo parliamo? Allora, il primo pezzo che leggiamo, siamo nel diciottesimo canto dell'Eliade, sono i versi 490-494. Vi fece poi due città di mortali belle. In una erano nozze e banchetti. Spose dai talami sotto torce fiammanti guidavano per la città. S'alzava molto i meneo. Giovani danzatori giravano e fra loro flauti e cetre davano suono. Le donne, dritte, ammiravano sulla porta ciascuna. Che scena è questa? È una scena matrimoniale. Ma di che tipo di matrimonio si tratta? In che periodo lo collochiamo? Questo è un po' difficile. Non ha niente a che vedere questa descrizione con la descrizione di un matrimonio greco come noi lo conosciamo. In età classica il matrimonio si chiamava ingue e consisteva, due persone erano sposate quando dopo che il padre della sposa aveva promesso allo sposo o al padre della sposa di dargliela in moglie, gliela consegnava. Questi due atti assieme facevano sì che la donna fosse ingue e saiza, cioè sposata, ma non è certamente questo. Ma non è neppure il matrimonio del quale troviamo qualche traccia nei poemi omerici. Che traccia ci sono di matrimonio nei poemi omerici? mi potete dire giustamente voi. Beh, Atene, cioè Menelao a Sparta con Elena, si è ripreso e sua Elena, contrariamente a ogni promessa le ha perdonato tutto. Quando Telemaco arriva, siamo nel terzo canto, nell'Odissea e sono seduti, è un matrimonio monogamico, sono due, marito e moglie. E lui, attenzione, e lui, lo stesso giorno in cui arriva Telemaco, c'è Elena Seduta che fa la moglie tradizionale, che parla, eccetera, come se niente fosse assolutamente, e lui, Menelao, celebra il matrimonio di suo figlio Megapente che viene spedito, scusate, celebra il matrimonio della figlia che viene mandata, viene spedita, perché deve sposare il figlio di Achille. Quindi è un altro matrimonio monogamico. Fatto da lontano, viene mandata, e poi si sposeranno là. E poi lui celebra, lui celebra anche sempre Menelao, il matrimonio del figlio Nozos, che vuol dire bastardo, Megapente. Questo è interessante, apro una piccola parentesi sul matrimonio greco, che è molto interessante. Noi sappiamo tutti che, lo dice lo pseudodemostra, che un uomo può avere tante donne, una moglie, una concubina, una pallachè. La concubina. La cosa interessante è che le concubine, non si dice così mai, vivevano nella casa coniugale. Vivevano nella casa coniugale, e non dice che, ma dice che si occupa lui di sposarli, di celebrare il matrimonio. questo era per dare un inciso sulla situazione, sulla disparità della condizione tra marito e moglie, che noi insistiamo sempre su quello, ma dimentichiamo di dire che, per di più queste donne, avevano le mogli, avevano in casa le concubine, i figli delle concubine, e una cosa che mi viene sempre in mente a proposito, è che Elena dell'Uripide, dunque, nell'Elena dell'Uripide cosa succede? Succede che la moglie di Neotolomo, quella di cui parlavamo prima, era gelosa di Andromaca, perché dopo la morte di Ettore, Andromaca era stata assegnata a Neotolomo, e aveva avuto un figlio, e vivono tutti in casa assieme. E allora lei, Andromaca, fa un discorso alla moglie del suo concubino, alla figlia di Elena quindi, e dice, ma tu fai male a essere gelosa, perché la gelosia fa male all'amore, perché quando il mio Ettore mi portava in casa i figli delle sue concubine, i suoi figli, i suoi figli nozzoi, illeciti, io le allattavo al mio seno. E quindi, questa è una cosa che mi ha sempre colpito dalla prima volta che l'ho letto, perché ti dà un'idea della condizione veramente, anche di come i sentimenti cambiano nel tempo, la gelosia. Beh, lei non era gelosa, perché non puoi essere gelosa di una cosa che succede sempre. Quello che succedeva sempre era che una moglie greca aveva in casa le concubine del marito e i figli di queste concubine, che è una cosa abbastanza impressionante. Divago troppo, torniamo a questo punto. Allora, vi dicevo, il matrimonio che c'è sullo scudo non corrisponde a nessuno di questi tipi di matrimoni. Che cosa è? È un matrimonio per classi di età. È un matrimonio di una fase, precittadina. Noi sappiamo molte, sappiamo benissimo che in molte situazioni, prima della nascita di un'organizzazione cittadina la popolazione è divisa per classi di età. Uomini e donne passano dei passaggi di status da uno status all'altro e c'è un momento nel quale le ragazze, tutte le ragazze nate in un certo anno, si sposano. E questo è la descrizione. Il matrimonio sullo scudo di Achille è quello, altro non è che quello. Quindi, sembra, sono ipotesi naturalmente, sembra far riferimento a una situazione di quel genere. Il matrimonio in una situazione in cui la società è divisa per classi di età, della quale ci sono tracce, non solamente a Sparta, dove tutta la popolazione è divisa per classi di età, ma anche ad Atene nella Lisistrata, in Aristofane. Vi ricordate? A livello rituale le ragazze sono canefore, orse, eccetera, eccetera, tutta una serie di passaggi nel corso dei quali imparavano la panificazione, tutto quello che era necessario a diventare delle spose. A livello rituale noi troviamo nel tardo quinto secolo il ricordo di quella situazione. non è così quindi impensabile che sullo scudo si faccia riferimento anche a quella situazione precittadina. Questo è il discorso da fare sul primo pezzetto. Però devo guardare che ora è, perché non ho guardato che ora ho cominciato. l'altro da mezz'ora, già mezz'ora? Non è possibile. Devo accelerare moltissimo. Seconda scena, perché poi dobbiamo arrivare al lavoro. E c'era del popolo, quindi siamo in versi 495 e 508. e c'era del popolo nella piazza raccolto e qui una lite sorgeva. Due uomini litigavano per la parola... Ecco, io continuo a usare le traduzioni della Rosa Calzecchi Onesti che continuano a piacermi. Lei dice il compenso, poi vi dico io che cos'è il compenso. La parola greca è poinè. Due uomini litigavano per il compenso di un morto. Uno gridava di aver dato tutto, dichiarandolo in pubblico. L'altro negava. Entrambi ricorrevano al Istor. Istor vuol dire colui che sa. Poi vedremo chi è colui che sa. E il popolo acclamava a entrambi, di qua e di là difendendoli. Due araldi trattenevano il popolo. I vecchi sedevano su pietre lisce in sacro cerchio. Avevano tra mano i bastoni degli araldi voci sonore. Con queste si alzavano e sentenziavano ognuno a sua volta. Nel mezzo erano posti due talenti d'oro da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia. Beh, queste sono dei versi sui quali ci sono veramente accapigliati veramente per decenni gli studiosi soprattutto del diritto greco. Perché che cos'è questo? Beh, la descrizione è il primo processo della storia greca. Primo processo del quale abbiamo una descrizione nella storia greca. C'è stato un lungo dibattito. È un arbitrato? No, non è un arbitrato. È un processo. È chiarissimo. Allora, ci sono due persone nella piazza. Allora litigano per la poinè di un morto. Cos'è la poinè? Poinè è una parola da cui viene naturalmente il latino e l'italiano pena, ma non significa pena. quello è un significato derivato. La poinè era una somma di denaro che una persona offriva a un'altra quando voleva evitare che quella persona si vendicasse dato che siamo nel mondo della vendetta. La vendetta è un dovere. A volte quelli che sapevano, poi ogni vendetta chiamava vendetta quindi era un mondo veramente difficile e qualcuno cercava di evitare offrendo una somma all'inizio di beni e poi di beni e di denaro che in un primo momento viene... cioè chi accetta la poinè in un primo momento viene disapprovato perché doveva vendicarsi. È vero, il suo onore non è completamente precipitato perché l'altro ha ricevuto un compenso in qualche modo però insomma non era una forma completamente risarcitoria. Però col tempo le cose cambiano. Se voi leggete attentamente i poemi trovate delle tracce. Me ne viene in mente una. Achille rifiuta di accettare le offerte di poinè che gli fanno perché torni a combattere. No, senza ragioni. A un certo punto Achille disse dice a un certo punto questo uomo è insopportabile e pensare che ci sono state delle persone che hanno accettato la poinè persino per la morte del padre e del fratello. Questo vuol dire che accettare la poinè comincia a diventare un segno positivo, no? Non è più un non vendicarsi abbastanza ma comincia a diventare un modo per evitare le continue vendette. Cioè seguendo attentamente nei poemi si sede molto bene questo passaggio. È il passaggio dal mondo della vendetta al mondo del diritto. ma a parte questo volevo dirvi questo testo quello della scena sulla quale ci sarebbero tantissime cose da dire ah no perché non vi ho detto chi allora chi era l'Istor? L'Istor è colui che sa era probabilmente un testimone probabilmente sono ipotesi queste eh perché spesso viene tradotto andavano da Istor viene tradotto giudice ma no colui che sa non è il giudice e perché sappiamo che non è il giudice? anche perché intanto vuol dire colui che sa e poi perché alla fine ve l'ho letto sono i Gerontes che giudicano i Gerontes seduci i vecchi che sedevano su pietre lisci in sacro cerchio quindi vedete che c'è un vero e proprio tribunale cioè un cerchio di seggi di pietre lisciate, preparate quindi chiamiamolo un vero e proprio tribunale e non solo ma i vecchi si alzano e che tengono prima di alzarsi cioè si alzano e quando si alzano gli araldi gli araldi voci sonore danno lo scettro quindi vedete ci sono gli araldi quelli si alzano e danno la sentenza e poi alla fine come finisce? finisce vince quello il cui cioè a maggioranza maggioranza dei voti diciamo di quelli che si sono alzati quindi più chiaro di così questo è un processo no? è il primo processo della storia greca quindi importantissimo in che secolo siamo? e beh qui siamo siamo appunto è un processo questo qui siamo nel pieno quinto secolo avanti Cristo pieno no all'inizio è prima ma insomma è il processo dell'età classica assolutamente e poi e poi andiamo avanti perché c'è siamo arrivati al lavoro il lavoro che è il tema di tutto questo convegno ci sono arrivato alla fine ma non è colpa mia se nell'oscuro di Achille il lavoro sta alla fine cercherò di essere il più rapida possibile su questo argomento allora e vi pose un ovale molle e un campo la parola è arura grasso largo da tre aratore e qui molti aratori voltavano i buoi aggiogati di qua e di là li spingevano e quando giungevano alla fine del campo a girare allora una coppa di vino in mano poneva loro un uomo apprezzandosi e solco a solco giravano bramosi di arrivare alla fine del magese profondo chiarissimo dietro nereggiava la terra pareva arata pur essendo d'oro ed era meraviglia vi pose e poi vi pose anche passiamo qui attenzione un terreno questa volta il terreno è temenos prima è arura qui è temenos un temenos regale qui i mietitori mietevano falci taglienti avevano tramano i mannelli cioè quello che tagliavano taglienti avevano falci taglienti avevano in mano i mannelli quello punto che tagliavano alcuni sul solco cadevano fitti per terra altri legatori stringevano con legami di paglia erano tre legatori in piedi e dietro due fanciulli spigolando portavano le spighe abbracciate le davano continuamente il re Basileus tracostoro in silenzio tenendo lo scettro stava sul solco godendo il cuore gli araldi in disparte sotto una quercia preparavano il pasto e ucciso un gran bue lo imbandivano le donne versavano pranzo sui mietitori oltre a fiorina bianca quindi vedete che è una scena è una scena su cui si descrivono due tipi di terreno molto diversi fra di loro molto diversi diversi anche per il tipo di terreno perché il primo non è arato ci sono delle persone che devono all'arte l'altro è un terreno arato e ricco sul quale attenzione sta il Basileus ma quello che è importante da notare è che la differenza non tanto fra i due tipi di l'Arura e il Temenos no? quanto chiaramente l'Arura che cos'è? l'Arura è un terreno appunto duro faticoso che chi vuole va a spalare gli danno un bicchiere di vino alla fine ma questo è tutto e perché lo fa? beh lo fa perché era probabilmente terra comune che chi riusciva a a rendere coltivabile poi magari ne prendeva i frutti poteva persino se non acquistarne la proprietà goderne i frutti si fa a questo proposito qualche volta il paragone con la Erte la Erte no? che vive in campagna e gode i frutti di un terreno che ha coltivato lui poteva essere un'Arura questa è l'idea un tipo il Temenos è tutta un'altra cosa e beh sul Temenos c'è un Basileus che gode nel cuore per il lavoro che viene fatto per il raccolto che viene fatto terra rata da altre persone allora la differenza sulla quale bisogna vorrei insistere non è solo il tipo di terreno è il tipo di persone che lavora sui due diversi campi perché da una parte ci sono dei normali chiamiamoli cittadini dall'altra parte ci sono evidentemente dei dipendenti del sovrano perché il sovrano lo dice ha in mano lo scettro ha in mano lo scettro che comanda queste persone allora i dipendenti quelli che lavorano il Temenos del Basileus beh sono dei lavoratori dipendenti che dove ci sono in Omero non ci sono lavoratori dipendenti e beh questo può far pensare a una situazione diversa no? a una situazione diversa che in qualche modo forse potrebbe qui siamo nel campo della fantasia ognuno fa l'ipotesi che vuole no? potrebbe essere paragonata a quella della micenea la società micenea ve l'ho detto in due parole era in grosso modo una società feudale molto grosso modo in cui c'era un sovrano il Vanax e poi dei sudditi non c'erano ancora dei cittadini no? che non avevano diritti e dipendevano da lui e lavoravano per lui qui si potrebbe pensare addirittura a un riferimento al mondo miceneo allora siamo di fronte nello scudo di Achille a delle situazioni veramente difficili da da mettere insieme e poi vi leggo le ultime le ultime versi perché a questo punto poi c'è la ah sì non vi ho letto poi dopo che la vigna era stracarica di grappoli insomma questi sono particolari meno interessanti fanciulle e giovani sereni pensieri nel cuore in canestri intrecciati portavano il dolce frutto e in mezzo a loro un ragazzo con una citra sonora graziosamente suonava quelli battendo a tempo danzando gridando saltellavano saltellando seguivano allora io direi a questo direi questo che abbiamo visto su questo scudo di Achille anche una festa durante la quale i giovani danzavano gli acrobo tutto una serie di di festeggiamenti ecco ecco io direi come si potrebbe simboleggiare in modo più compiuto la vita di una comunità di due città in pace perché non ho detto all'inizio queste sono le due città in pace che vengono descritte poi ci sono anche le città in guerra come si può descriverla sinteticamente meglio di così cioè perché qui abbiamo il matrimonio caico forse il processo il diritto il lavoro le attività economiche e poi le attività recreative allora secondo me lo scudo è veramente un microcosmo di un mondo alla conoscenza della cui storia beh questi versi ci danno un contributo enorme e qual è il contributo? è che ci danno da pensare pensare ripensare quando parliamo di mondo americo a che diavolo di mondo pensiamo grazie applausi 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 applausi